Ciao, sono Mariella, faccio parte dell'Energetic Club dal 2013, quindi da quando è iniziato questo percorso. In queste giornate, dove c'è la certificazione, è un'occasione importante perché abbiamo tutti quanti modo di fare un riepilogo di tutto quello che è stato il percorso. E quindi è importante riprendere tutti i concetti, è un ricordare e un andare a rivedere alcune dinamiche che si sono presentate nelle serate che sono state fatte. Quindi è una giornata per me utilissima e importante. Ciao, grazie.